Per onomatopea si intende quel fenomeno che si produce quando il suono della... Signor Francesco? Eh? Sì? Francesco? Cosa fa? Dorme? Chiedo umilmente scuse, solo che fino alle 5 del mattino ho aiutato mio padre ad arare i campi, quindi ora sono assonnato. Capisco. Beh, guardi, faccio il sacrificio di restare per un'altra oretta sveglio e poi ce ne andiamo tutti quanti a casa. Ha ragione, ha ragione, mi perdoni? Di nulla, figura. Dovemo le... Roberto? Roberto, ma insomma! Beh, che c'è? Cosa pensa di stare nel letto di casa sua? Cos'è, non ha dormito questa notte? No, no prof, non ho chiuso l'occhio stanotte. Ah, sì? E cos'hai fatto, Roberto? Sei stato a zappare? Ho dovuto terminare un torneo online alla Play con delle persone e ora c'ho sonno. Ah, il signorino ha avuto un torneo da fare. Beh, invece qui c'è da spiegare la lezione e di ascoltare, quindi dormi a casa sua, ok? Ma non ci penso proprio, a casa c'ho da fare. Anziché ascoltare le sue noiose spiegazioni, preferisco addormentarmi e recuperare qualche ora di sonno. Ah, e per cortesia, abbassi il tonno di voce, abbia almeno rispetto per chi deve riposare. Valla subito dal preside! Ma tu guarda pure il preside, non ci vuole... Non si può proprio riposare qui. Ma non ci vuole, non ci vuole... Non ci vuole.